Una profonda depressione atlantica entrerà nel Mediterraneo nel fine settimana, determinando l'afflusso di forti correnti sud-occidentali umidi dal Mediterraneo verso il nord Italia. Per sabato provvediamo inizialmente cielo nuvoloso, poi dalla tarda mattinata cielo coperto su tutta la regione. Inizierà a piovere sulla fascia occidentale e nel pomeriggio le piogge si estenderanno al resto della regione. In genere ci aspettiamo piogge moderate sulla fascia occidentale più abbondanti su quella orientale. In serata entrerà vento di scirocco dal mare, sarà possibile anche qualche temporale con piogge più intense sempre sulla fascia orientale. Anche per domenica è avuto tempo con cielo coperto, piogge in genere moderate o localmente abbondante sulla fascia occidentale, sul Pordelonese e in Carnia, mentre avremo piogge da intense a molto intense sulla fascia orientale al confine con la Slovenia. A tratti sofferà vento di libeccio e sarà possibile anche qualche temporale. Nella notte tra domenica e lunedì arriverà aria fredda, calerà dunque la quota della neve e lunedì mattina potrebbe nevicare fino nel fondo valle a Tarvisio. È tutto, buon fine settimana.